signore e signori buonasera benvenuti allo stadio eccezionale di casa marconi oggi seguiremo insieme questa partita incredibile la partita della vita la partita che tutti attendevano tra e mio zio andiamo ad analizzare immediatamente come si stanno preparando i due professionisti si ok ma dopo qualche problemino tattico erano veramente pronti ad iniziare ti rendi conto però c'è un problema enorme bella ragazzi e benvenuti qui sul mio canale oggi siamo tornati con un video special special edition incredibile su pass siamo per la seconda volta quest'anno sempre sulla demo perché siamo poveri i compagnati un essere incredibili ottimo allora sarà un roma gioventus incredibile su su pass visto che come sapete insomma della roma lui sarebbe sì sarebbe della roma non sarebbe abbastanza convincente no polemica non si fida c'è polemica six hours later buona samua che l'ultima partita ne ha stracciato una palla e vabbè metti tutti a cannolo come se non ci fosse domani calcio inizio già pure in casa che vuoi tanto batti sempre prima te hai messo l'infortunio si? si non l'ho fatto perché questo è il primo ciuccetto che fa il gol di zio aveva fatto scatenare tutti pure buffon vedi gigi e plaudi perché già sa che non va bene gigi sai rimani concentrato gervinio ancora gervinio mamma mia c'è polemica anche lo sfogliato video della roma e vabbè non ho capito mi astapirò quanto dura la partita? no perché pensa da adesso e poi incodere a due tanto stai in diretta stagione a few moments later mamma mia gigi la stava stavolta stavolta eh si è dai oh gervinio andiamo così 2 a 1 2 a 1 2 a 1 ma prendi sto pallone questo pelaro che azione illuminante gervinio paro vengo danno ma non è possibile mi dice una danza un tanto più 2 a 2 a casa totiii capitano 3540 mamma mia e adesso quanto stiamo ecco il selfie ecco il selfie Finisce al... Ok, il quinto Come si è il settimo Arrivo anche a chi c'è Pjanic Totti C'è dentro Gervinio Bella sola, Gervinio, Gervinio, Gervinio Non me lo fai Nerte, no, non c'è Buono Gervinio, involontariamente Grande capitano Arriva le turbi No Ed ecco che in preda l'emozione per la rimonta epica Mi sono anche Dimenticato di registrare la seconda parte Della facecam Che non so dove sia avvenita Ma per questo, non perché sono stupido No, la lisciata, che cosa triste Grande Morganocchio Con due non è sempre non è tale però non è tale no, non ti sei ribattuta c'è il muro io sono la forziera più forte e si segna le teste da su sportività ed educazione prima di tutto non va bene non hai portato la ruca non esiste proprio attenzione gg per 95 grande gg gg c'è sempre questo è il primo passo di puniziere che faccio su pezzo tanto per 4 a 3 al 94 esi pure adesso gli ho rubato il gol a tempo scaduto si dovai oh non fiamo scherzi no 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 vabbè si domani no no vabbè faglielmo si 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 signori ovviamente il 4 a 3 era il punteggio più giusto per me forse tutto in